Salve a tutti da Mario Santagati e Chesslogger per i video problemi. Nel video problema di oggi la mossa è al bianco. Il bianco muove e vince. Bene, vi lascio alla risoluzione del video problema e vi do appuntamento ai prossimi video problemi, sempre con Chesslogger e Mario Santagati. Ciao e alla prossima! Ricordati di seguirci sui social network e di condividere il video. Grazie!